E per una crescita sana delle persone che sia radicata nei principi della Costituzione. Io ho dato subito la disponibilità di 12 milioni di euro dei grandi progetti speciali affinché a Caivano si faccia un centro culturale articolato in un teatro, articolato in una sala di concerti, articolato in una biblioteca, sala di lettura, cinema. Perché penso che se i giovani vengono indirizzati verso queste attività ovviamente rifuggono da comportamenti illegali. Sapete anche, ieri le agenzie lo hanno correttamente riportato, che abbiamo finanziato tre eventi musicali dedicati alla memoria di Giovan Battista Cutolo e lavoreremo per stabilizzare l'orchestra Scarlatti Giovani.